Diego Cicolini nasce verso il finire degli anni 70, è uno dei miei autori emergenti, oggi vi parlo di Le Gocce. Le Gocce è un romanzo molto particolare, piacerà agli amanti del thriller ma non solo. L'ispettore Bennet, che è il protagonista, svolge il suo lavoro quotidianamente con impegno. In realtà succederà che gli viene dato un altro incarico, viene direttamente dal governatore quindi non potrà assolutamente dire di no. Dovrà affiancare un detenuto e stando a stretto contatto con questa persona scoprirà una vicenda, la vicenda legata al passato. Le Gocce, come potete vedere dal titolo, è un indizio, anzi sono degli indizi del suo romanzo, ovviamente dovete leggerlo anche per comprenderlo. Diego Cicolini ha pubblicato un altro libro, Evan, la minaccia, ed è un libro, quello di Evan, legato all'ambiente, all'uomo e al rapporto. Ed è un elemento importante quindi della vita in generale di Diego Cicolini, che è molto attento alla natura, è molto attento all'uomo e soprattutto a tutte quelle dinamiche sociali. Diego Cicolini ha pubblicato Le Gocce nel 2017, prezzo di copertina 12 euro per un numero di pagine di 80 circa. Diego Cicolini, Le Gocce, cercatelo su internet, acquistatelo e soprattutto leggete libri di autori emergenti. Ciao!